Non sapevi che noi siamo per milioni, uno perché ci siete e due sono la cosa più importante, due perché senza di voi noi possiamo stare qua a fare cose, quindi il fruitore della musica, voi siete l'importante di chi la fa, perché altrimenti, ripeto, non ci sarebbe questa festa. Grazie a voi, grazie a che ha fatto chilometri, grazie a che ha spiegato l'energia e tempo, spiegato, no, non è un'altra cosa, non è un'altra cosa, utilizzata bene, utilizzata l'energia e tempo per sentire questi, loro meravigliosi musicisti, io ormai, col cavolo, grazie che ci sono venuto qui, grazie che ho organizzato, grazie a tutti, grazie, un paese bellissimo, io ho la fortuna di vivere non lontanissimo da qui, quindi conosco bene, un'altra cosa che è meravigliosa, tenete per la stretta, anche se qualcuno mira e non è così, sbagliate le paure, ascoltate a me, tenete per la stretta, proteggete, 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 e fuori due, ma bellissimo, grazie a tutti, 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 grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.